Musica Salve ragazzi e bentornati sul nostro canale Allora oggi siamo di nuovo qui con Far Cry Parimal Che praticamente volevo fare la missione Della VUGA L'artificiere L'artifice 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 Ok Totem Il totem perduto Va bene Questo probabilmente sarebbe Marca Il profanatore del totem Per identificarlo Aspetta Oh fe 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 Conchili marchio Conchili marco Aspetta Mi sa che serve il gufo A parte qui non era una missione Ecco Quando ho sghamato all'orso Te pare Aspetta che qui c'è Uccidi e fuori Profanatori Va bene Cioè no L'orso proprio Passa inosservatissimo Io adesso neanche ci pensavo Che nell'ultima missione Sto cazzo di orso Ci ha fatto dare l'anima E' morto E' morto E' morto C'è un orso Che io Che io C'è più da fuoco almeno Un orso che io ci ho messo Un giorno a ammazzarlo Vaffanculo E' morto No vabbè dai Non è fattibile Tu cazzo stai Sti profanatori Ah ok è morto No Forse non capisci Muori lì Orso del cazzo Bastardo Infame Pensavo che eri Dovevi essere Un mostro Dovevi essere Non sei un cazzo Quanta strada ha fatto questo Scusate Tutta questa missione E' andata tutto A rodo Lì E' un via distrutto C'è qualcuno qua Ma vabbè Allora Se mi vedete proprio così Tranquillamente Io Faccio così tranquillamente E va bene Allora Dai Ce la facciamo Ma si Vaffanculo Starco non va 10 metri Vabbè Io le tiro ma Quando sei duro Scusate Vaffanculo Ma almeno prendici Stupido Ma quanti cazzo Siete Vabbè Noi facciamo Finta di nulla Ce ne andiamo Per punto nostro Scusate Calmi Calmi Fatemi avvicinare almeno Il minimo Per uccidervi Ok Ce n'è un altro Aspetta Ok Starco doppia freccia Mi piace da morire Cazzo Cazzo C'è proprio C'è proprio C'è proprio così La missione Era solo questo Bellissimo Questo è due frecce Questa è fantastica Arco Due frecce Fantastico Allora Fatto questo Diciamo che Ormai Non è che ci sia Amasso più di tanto Da fare A questo punto Vedo che qua Ci abbiamo un po' Di cose In sospeso Tipo lui Lei Lui è Ah Caverna di Dacca Cazzo Adesso non Mi viene in mente Vabbè A sto punto Io direi Di andare Al nostro villaggio E vedere Cosa c'è Da fare E organizzarci Un po' Per il seguito Vediamo Maledetto Orso Ci ha fatto piange Bastardo Che tra l'altro Pensavo che era Una furia della natura Invece non è un cazzo Cosa serve Per aumentare La nostra capanna Pelle di tasso Poi Andiamo Da lei Che ci dice Apri No Perché qua Ci avvia direttamente Una missione Andiamo Eh Bella La vita Io ammazzo Mostri immensi Voi non fate Il mio marito Cazzo No Partito La missione Ah no Probabilmente Dovamo aiutare A costruire A rifare il totem Si ci vedo Bellissimo Ma che è Ma tu stai fuori Da testa Ma se invece Ma se invece Ma se invece Annaccia A te Fatto Ma tu perché Dici Schifo Schifo Non credevo Che sto gioco Mi ha dato così Tanti brividi E quindi Noi che ci abbiamo guadagnato Nulla Ci abbiamo solo Sta cosa che puzza D'amore sicuro E basta Vabbè Io C'è un punto interrogativo Chi è? Legge del Mabut Vabbè Ce la faremo Allora Volevo andare Da Capanna di Karosh Che della vita Che Karosh Noi lo vediamo Dov'è? Pazzoide Come stai? Mancoci che oggi Va bene Va bene Amico Argile Il nolto E' bello Uno strinato Va bene Che è qua? Ah si Noi prendiamo tutto Quanto vuoi Stanno messi Veramente bene Quindi Allora Io Andrei O meno Proverei Andare da Sala Per vedere Ammazza quanta carne Che era Quella era l'orso Vi siete un po' Evoluti Nella musica Da quello che suonava Questo cazzo Di Giramo qua Faffanculo Fortuna che non c'è più Sei tu eh No no Basta No no Ancora no Di nuovo Questa canzone Ma sentila Ma che era La senta a distanza A distanza Basta La qua invece Che è? Un cignale Non riconoscerlo Ok Va so Ci esploriamo un po' Il nostro villaggio Per quanto piccolo Grande che sia La risolvere Vediamo Bello Quello là Che cazzo Non l'avevo mai vista Bella In senatura particolare Perché mi vai Ok Allora io andrei Dallo sciamano Ma È abbastanza Pericoloso Pericoloso Perché Questo qua Ci fa sempre Bevestra Infatti Non 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 azzarderei Comunque Volevo dire Che successivamente Ci farò Nel prossimo episodio Il video Dallo sciamano Allora In quanto a creazione Come stiamo messi Accedo al Bsoft Va bene Questo che cos'è Cinturro per bombe Va bene Ok Ok Cioè non è che abbiamo Molto Ancora da costruire Questo è il massimo Questo ovvio Bisogna migliorarlo Bisogna migliorarlo E a parte questo Non è che c'è Poi di tanto Queste ancora sono Blocchiate Le abilità Villaggio Sta migliorare A livello massimo La costruzione Ancora no C'è Che ricomp... Ah c'è L'Exp Va bene Eh Pelle di tasso Vediamo un po' Se ce l'abbiamo In zona Una pelle di tasso No Dobbiamo fare i chilometri Dov'è 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 Il tasso Il tasso Il tasso Il tasso Dov'è Il tasso No Non lo trovo Tass Aspetta Che Così 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 Il tasso Ma il tasso Non c'è Non c'è il tasso Non c'è il tasso No vabbè Proprio Cioè non c'è veramente il tasso Scusate ma scusate Cazzo lo metto da fase e poi non c'è No vabbè ci deve stare Ci stanno tutti gli animali Non c'è il tasso Maledetti C'è il rinoceronzo c'è Il rinoceronzo C'è questo qua che è il doll Lupo Jaguaro Questo che è il tapiro Tigre Cinghialo Una volta Maialo si maialo No vabbè il tasso Proprio non Magari qua Non lo vedo però Non c'è Forse Mi confondo Mi sto perdendo in chiacchiere Va bene Allora Faccio un'altra cosa Dato che ci serve Per la creazione Rinoceronte Per portare Jaguar Rinoceronte Adesso Mi vado In off screen Se ci riesco Un dubbio Perché Fondamentalmente Non è che siamo così tanto potenti Ammazzare No però Sta cosa del tasso Mi è rimasta Un po' qui Ve la faccio pagare Sì sì Ve la faccio pagare Va bene ragazzi Sta tramontando Infatti c'è scritto tramonto Carina sta cosa C'è scritto Qua tramonto Io non Non mi immagino Come sarà il mammotto Ragazzi c'è il mammotto Va proprio Vedendo il lupo E il L'altro orso Non me l'immagino proprio Né tanto meno Vorrei proprio scoprire Quanto cazzo è grande Va bene ragazzi Allora Ci saluto da Mokano Con questa atmosfera Quasi notturna E No No Voglio andare Va bene Ci vediamo qua E ci vediamo al prossimo video Di Far Cry Un saluto a tutti Da Gli Adisastera Ciao ragazzi